buonasera gentile pubblico di diario di bordo venerdì 24 giugno 2011 nei nostri studi questa sera il maestro alessandro sabatini buonasera ma buonasera antonio per essere intervenuti adesso vediamo anche la la tua definizione precisa di maestro direttore della cappella musicale panfiliana della cattedrale di san panfila appunto a sulmona in pratica il coro della cattedrale sì il coro della cattedrale in modo particolare il coro delle cerimonie pontificali delle celebrazioni pontificale del nostro vescovo monsignor angelo spina perché detto così è un po un po pomposo come giusto che sia però altisonante però meritevole senta che cosa fate in particolare quali sono i brani che eseguite sì diciamo che la nostra la nostra attività spazia in modo preponderante l'attività principale quella proprio dell'animazione liturgica delle celebrazioni pontificali del vescovo e a questa uniamo una certa attività concertistica di approfondimento una vera e propria attività culturale di ricerca di quelli che sono i canoni della bellezza della musica sacra insomma che è un grande patrimonio se vogliamo del del popolo europeo del popolo italiano in maniera particolare senta la diciamo così la tradizione del coro in un coro liturgico di un coro insomma e anti e antiche antichissima dai del canto gregoriano quando è più o meno organizzato anche sicuramente prima poi si è trasformata nel corso nel corso dei secoli no fino arrivare poi insomma i tempi più recenti anche alle alle messe cantate qualcosa di più certamente bit generation diciamo così più moderno adesso magari si torna un po più alla alla tradizione fortunatamente c'è questo ritorno alla tradizione per diciamo che la chiesa sempre puntualizzato questo aspetto però non si è mai data luce in modo particolare a questa evoluzione già dal concilio vaticano secondo una delle raccomandazioni del papa e dei vescovi era quella che nelle basiliche cattedrali nelle basiliche maggiori ci fosse una scuola cantorum che curasse le liturgie con i canoni della bellezza della musica sacra perché si trattava di celebrare il mistero come dicono i nostri padri e poi con storicamente in modo evolutivo a partire dalla contestazione fino alla fine degli anni ottanta la strada della musica si è fatta facile orecchiabile melodica quindi per affascinare non in realtà l'architettura della bellezza si è persa diciamo la musica sacra è una musica siamo un po più difficile sia per chi la deve seguire ma anche per chi la deve ascoltare insomma sia la polifonica il canto gregoriano sicuramente sì il fondamento della musica anticamente soprattutto del canto gregoriano fino a poi le elaborazioni polifoniche più complesse era quello di non alterare il senso del testo ma di valorizzare il testo quindi la musica costruita sul testo una ma in questo c'era anche la partecipazione della della comunità alla durante questo è un tassello delicato diciamo che anticamente parliamo dal settimo secolo fino al tredicesimo secolo quando diciamo i codici gregoriani adesso semplifico per non non perdere tempo non annoiare l'ascoltatore i codici gregoriani accomunavano un po l'uso dei chierici quindi la musica era di elite se vogliamo soltanto dei chierici però alcune forme soprattutto le antifone venivano poi anche cantate da queste assemblee variegate ovviamente nel quindicesimo sedicesimo diciassettesimo secolo la grande polifonia non permetteva l'assemblea ma nemmeno la liturgia lo permetteva di partecipare perché dopo il concilio di trento la musica era riservata appunto alle scuole cantorum bene allora questo è un escluso storico che credo sia stato comunque importante perché veniamo adesso a capire diciamo come mai è rinata questa cappella musicale all'interno della della diocesi no e quindi della cattedrale prima diceva che appunto il valore storico della tradizione all'interno le posso dire che nella nostra basilica cattedrale con tutta probabilità non ci sono state nel passato realtà corali importanti probabilmente il canto era affidato ai canonici e quindi non abbiamo una tradizione musicale vera come in realtà è quella della della dell'annunziata della chiesa di la santissima annunziata e quindi dal 2006 stiamo cercando di costruire ereditando questo piccolo patrimonio che ci viene lasciato un nome di cultura di grandezza storica che sia anche valido insomma da trasmettere ai posteri uno dei momenti più belli è stata poi l'esibizione in piazza durante la messa celebrata dal papa lo scorso anno il 4 luglio ne parliamo tra un attimo perché adesso stiamo già vedendo invece alcune immagini della partecipazione a materia ad un concorso sì questa è stata una bellissima grande soddisfazione per noi e soprattutto un vanto credo anche per la città per la basilica cattedrale per la diocesi stessa qui abbiamo partecipato al primo concorso nazionale Antonio Guanti di Matera un concorso nazionale impegnativo e con una giuria altamente qualificata e la cappella musicale si è attestata quarta noi non ce l'aspettavamo insomma abbiamo partecipato un po' per scherzo e invece abbiamo conseguito questo bellissimo risultato io direi di ascoltare proprio magari proprio un minutino non tutto il brano per dare almeno un'idea e un riconoscimento al coro grazie a tutti 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 di un proprium che viene eseguito a mio avviso insomma con orgoglio in modo molto preciso abbiamo riscosso molti apprezzamenti soprattutto dai gregorianisti per questa esecuzione maestro sabatini ha studiato mi diceva prima di entrare in trasmissione sì io ho fatto prima pianoforte diplomato in pianoforte dopo approfondito proprio nel campo della musica liturgica all'accademia di musica sacra fresco balli di perugia mi sono diplomato in musica corale direzione di coro e diversi master insomma specialistici un maestro che chiede molto ai suoi non chiede molto chiede tutto che è diverso va bene e grazie a quel tutto magari che avete siete riusciti a ottenere questa no questo buon risultato a materia vediamo anche l'altro brano che abbiamo preparato grazie a tutti 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 Un lavoro di equip straordinario, ma soprattutto una grande soddisfazione per la nostra terra di Abruzzo, perché questi 300 cantori provenivano da tutte le parti della Diocesi, e quindi quando parliamo della Diocesi, solo per citare gli estremi confini, Castelvecchio Calvisio nell'Aquilano e Quadri nell'Alto Sangro. Nel Chietino. Nel Chietino. E quindi l'affluenza di tutti questi cantori impegnatissimi che hanno sudato per mesi nei propri paesini per prepararsi, è stata davvero un'esperienza toccante, commovente. Davvero l'immagine del nostro popolo di Abruzzo, che quando vuole dimostrare qualcosa di concreto, di grande, lo sa fare. Ma l'emozione era quella di cantare all'aperto, perché poi presuppone, immagino, anche delle tecniche diverse, nonostante i numeri, o di fronte al Papa. Certo, le amplificazioni fanno tutto, soprattutto quando si tratta all'aperto. In maniera particolare, anche se poi si tratta di un coro poderoso, ma uno spazio aperto come Piazza Garibaldi, ne capisce che è difficile riuscire a ottenere la sinergia tra la bellezza del suono e lo spazio. Nel vostro coro invece è composto da? Il nostro coro, che è un pochettino l'élite del coro della Diocesi, che ha curato anche tutta l'organizzazione, è composto da 25 a 30 membri, orientativamente. Ci vediamo due volte a settimana e anche più spesso, se serve. Perché, come adesso, perché dovete preparare, ci sono una serie di manifestazioni, celebrazioni, proprio in occasione del primo anniversario della visita del Pontefice, e voi sarete impegnati nuovamente. Certamente. Noi, inseriti all'interno del calendario di queste celebrazioni, terremo un concerto, sabato 2 luglio, alle ore 21, dal titolo Super Fundamenta Apostolorum. Sarà uno stralcio di pagine delle liturgie pontifici, appunto, dall'epoca di Celestino V a Benedetto XVI, all'interno del cortile del Palazzo Vescovile. Quindi, in questo scenario particolare, sicuramente all'aperto, però con un'acustica... Certamente diversa, immagino più appropriata, no? Più appropriata, più appropriata. Bene, noi di questo e di tutte le altre manifestazioni parleremo proprio la prossima settimana, con Sua Eccellenza il Vescovo. Che ringrazio qui, perché Sua Eccellenza, Monsignor Angelo Spina, è il primo sponsor della cappella musicale, quindi noi veramente viviamo sotto la sua sutela e lui ci consente di dedicarci a queste bellissime attività. Senta, per chi si volesse iscrivere al coro, sono aperte iscrizioni, c'è un esamino, c'è una prova da fare, c'è... Sì, ci sono delle audizioni da sostenere, insomma, che sembra anche ovvio che ci siano per ottenere una certa qualità. La nostra sede è proprio nel Palazzo Vescovile, quindi per quanti volessero intraprendere con impegno, questa attività possono farlo liberamente. Va bene, grazie. Allora io direi che possiamo concludere qui la nostra intervista col maestro Angelo Sabatini. Alessandro, grazie per la sua partecipazione, bocca al lupo per il prossimo concerto e per tutto il resto dell'attività. Grazie, ringrazio lei e Onda TV per la possibilità e un solo saluto a tutti i miei coristi, in modo particolare il Consiglio Direttivo, la Presidente Nadia Di Bacco, la Vice Presidente, il Segretario e tutti veramente i coristi che credono nella causa come me. Grazie di nuovo allora al maestro Alessandro Sabatini, buon lavoro. Grazie anche al nostro pubblico, il nostro diario per questa sera e per la settimana si conclude qui, ci rivediamo a partire da martedì prossimo su Onda TV. Grazie a tutti, buona serata e buon fine settimana.